Siamo qui all'Ostenda Storia, anche quest'anno, edizione 2021 di Ost, per presentare alcuni dei nostri nuovi prodotti e per ripresentare la nostra azienda in questi tempi difficili. Noi siamo da sempre fautori della valorizzazione dell'espresso italiano nel mondo, lavoriamo in più di 130 paesi nel mondo, portando la nostra cultura, la cultura dell'espresso italiano in ogni angolo. Anche quest'anno, come più del solito, siamo qui per presentare le novità a Storia, in particolare vorremmo cercare di avvicinarci di più al consumatore finale, quindi al consumatore della tazzina di caffè, così come al barista e ad ogni operatore del settore. Abbiamo delle novità per l'uno e delle novità per l'altro. Quindi in particolare stiamo sviluppando ulteriormente il nostro modello di punta, che è la Plus4U, è una macchina multiboiler con un'interfaccia intuitiva e molto utile per l'ilavoro del barista. Stiamo ulteriormente sviluppando la connettività della macchina al macchino ad osatore. Questo è un restyling della macchina che ci ha fatto conoscere nel mondo negli ultimi dieci anni. Abbiamo una nuova proposta per una macchina, caldaia singola, che abbiamo cercato di ottimizzare con caratteristiche dedicate all'operatore. Modello Hollywood e una linea che stiamo andando a presentare da adesso, che non abbiamo mai avuto e si sta rivelando sempre più importante per il settore del caffè e dell'espresso in particolare, è la nostra macchina domestica, che è quindi indirizzata all'utilizzo nelle case di ogni amante del caffè. È una tipologia di macchina che noi come Astoria non abbiamo mai avuto, perché siamo sempre stati focalizzati nel professionale e ci aspettiamo che abbia un grandissimo successo in tutte le case.